Stiamo arrezzando un disegno su una zappogna, un incisione, un taglio come si può chiamare, e man mano, questo lato è già finito. Questa sarebbe la prima canna da zappogna, quella che fai ugando, poi c'è l'altra canna che fa l'accompagnamento, sarebbe questa qui, però ancora l'è da fare, questo ha quattro buchi, mentre questo ha avuto i buchi e uno all'interno. Cottello, matita, queste sono le mie attrezze. Ogni volta che faccio un lavoro nuovo non faccio lo stesso disegno, io non mi ripeto mai. Ogni volta invento, non ho una linea da seguire. Io sono un pastore, mio padre sono un pastore, e quindi secondo me questa è atta pastorale, non è atta industriale, nostra. Cominciamo a ricollare, a fare i cucchiai, c'è un cucchiaio, il primo cucchiaio che ho fatto, l'ho fatto nel 64. Non ho seguito mai la traduzionale via che ha seguito le mie antenati, i miei precedenti e le compagnie belle, perché loro facevano un lavoro, io l'ho fatto così, ma modificandolo sempre. Mi sono sempre aggiornato. Fortunatamente ho provato alla quinta elementare, non è che c'è una cazza. Non basta la quinta elementare, evidentemente. Però avevo sempre l'idea di aggiornarmi, di essere unico, in un certo senso, sul mio lavoro. E quindi ho fatto sempre cose differenti degli altri. Io non ho copiato mai nessuno. Nel 64 ho iniziato un cucchiaio lì, poi ne ho fatti insomma. I zampogni saranno una ventina, in tutta la Sicilia. Prima di me, di me non aveva fatto nessuno. Nessuno aveva fatto le zampogni. E fino a oggi nessuno l'ha fatta ancora. Cioè sono il primo a decorare le zampogni, in tutta la Sicilia. Le zampogni eravamo diffusi soprattutto nell'ambito pastorale. Ora non è diffusi più sull'ambito pastorale, ma sono tutti fuori. Quasi nessun pastore la suona, ma in morte la suono. I zampognari, tutti i pastori avevano una zampogna, specialmente la zona di Monforte, San Piero, anche la zona Messina, San Filippo. Quasi tutti, i zampogni eravano tutti i pastori. Poi si è diffusi altri pastori, sono passati agli altri, sono contadini, professori dell'università, poeti, insomma, e tutti quanti. Sono un po' di giorni. Già questa è tutta la giornata di ieri, davanti a due giorni. Sì, oggi probabilmente riesco a finirla oggi, probabilmente, ma la prima che ho fatto impiegai 17 giorni, ma non tutti, tutto l'intero giorno lavoravo io. A tre, quattro ore al giorno insomma sono impiegato 17 giorni. Penso che qualcuno poi una volta che seguirà le mie forme, non lo so, mi sostituirà, non lo so. Per ora fanno bastone, fanno collare, fanno cose, però zampogna io, oltre a quelle mie ricamate, non ho visto mai nessuno, fino ad oggi, domani, non lo so. Grazie a tutti. Grazie a tutti.